Il salotto di Bike Show diventa TV, in onda adesso su Sky. Bike Show TV è anche online sul sito www.bikeshowtv.com anche su HTB 8 XIII Est, frequenza 12.149. Grazie per la visione! Grazie per la visione! In questo periodo, la primavera, c'è potare, legare, poi adesso è il momento che si prepara per ripiantare le vini nuove e dopo la stagione è molto in avanti perché se continua questo calore ci sarà subito da cominciare a fare la potatura verde, tutte le altre cose, è che in mezzo c'è anche il Giro d'Italia e io sarò assente in quel periodo, comunque ci sarà qualcuno che ci pensa. Ecco, dopo che abbiamo visto oggi come segui proprio le tue vigne, i tuoi vini, qui abbiamo il vino quello chiamato con il record dell'ora. 51-151, l'abbiamo cominciato a fare l'anno del record perché un amico, un professore dell'istituto agrario ha detto ma perché non fai lo spumante che gli metti il nome del record? Abbiamo cominciato allora nell'84-85 e adesso stiamo anche cercando di incrementare questa produzione. Ecco, le tue grandi passioni Francesco, il ciclismo è stata la tua passione, il tuo lavoro, qui è passione? Noi siamo nati in campagna, tutta la famiglia siamo passati per i campi perché da ragazzi troviamo io, quando ho cominciato a correre io che mi occupavo della campagna perché Diego, Enzo e Aldo erano con le corse e non erano a casa, ero io che dovevo pensare alla campagna, poi ho cominciato a correre e mi ha dato il cambio Diego, poi nel frattempo io ho sempre seguito anche tutte le vicende della campagna, abbiamo cominciato a imbottigliare il vino e poi ho comprato questa proprietà proprio l'anno che ho smesso di correre e mi dedico gran parte del mio tempo qui. La tua lunga carriera, in questo periodo come dicevi ci stiamo avvicinando al Giro d'Italia, però sono partite le classiche, le classiche dove tu hai fatto anche, diciamo che aprile, marzo, aprile, maggio, hai fatto veramente grandissime vittorie. Sì, le classiche si è cominciato ancora nel 73, ho fatto la prima partecipazione alle classiche del nord, alla Frecciavallona, al Diegi Bastogliegi. Dopo l'anno dopo ho provato nel 74 con la Roubaix dove ho fatto il secondo e da lì in poi ogni anno si andava a fare queste classiche, poi le Fiandre, la Gambeweghe, che c'è già stata perché è stato cambiato un po' il calendario, prima si cominciava con le Fiandre, poi c'era la Gambeweghe, poi la Frecciavallona, no, prima la Paris-Giroubaix, poi la Frecciavallona, poi la Diegi Bastogliegi, dopo è stata inserita l'Amsa Gold Race e adesso un po' il calendario è cambiato, comunque queste classiche si sono sempre corse in questo periodo, poi se prima era una dopo l'altra, questo poco conta, ma... e poi a ridosso delle classiche c'era il Giro, adesso è ancora più vicino perché il Giro è stato anticipato di una decina di giorni rispetto a prima e ai 6 di maggio mi pare che partirà già il Giro d'Italia, perciò siamo ormai, non dico la vigilia, ma quasi, manca poco più di un mese e vedremo insomma a quello che succederà, è un Giro difficile, anche se hanno detto che è meno duro, ma è molto duro perché ci sono 3-4 tappe che nasceranno il segno. Francesco, tra una settimana, cioè domenica, ci sarà la Paris-Giroubaix, perché quando andremo in onda noi ci sarà la Paris-Giroubaix, tu la Paris-Giroubaix hai detto che la prima che hai fatto, hai fatto secondo, quando hai fatto secondo che hai visto questa gara, cosa hai detto? Questa sarà mia. La prima partecipazione è riuscire, ho rischiato anche di vincere, ho avuto un po' di sfortuna perché ho buccato, poi sono caduto nel finale e se no potevo giocarmela con De Vlamin. E poi dopo ho continuato a fare piazzamenti finché nel 78 ho vinto con la Maria Campione del Mondo, poi il 79-80 e poi sempre partecipato anche al Giro delle Fiandre dove ho fatto due volte al secondo per poco e quello non l'ho mai vinto, però insomma non si può pretendere di vincere tutto. Oltre 300 vittorie in carriera, quando ci pensi, realizzi che 300 e più vittorie veramente sono tante da professionista? Sono tante perché bisogna anche fare gare per vincerle e non è che le vincevo tutte, però se si considera che si facevano, in un anno si poteva arrivare a fare anche 90 giorni di gara tra tappe, corsi a tappe, in pista e tutto, però fare tante vittorie siamo venuti a metterle insieme ogni anno parecchie e qualche volta purtroppo ho fatto anche secondo, terzo, che io ho fatto in tutte le grandi corse, sempre molti piazzamenti, siamo fatti solo tre volte a seconda al Giro d'Italia e alla Paris-Giroubaix ho anche fatto tre volte a seconda, alle Fiandre, alla Sanremo, Lombardia, tutte queste gare. C'è stato solo un altro corridore che ha vinto 500 gare che si chiama Eddy Merckx, con gli altri corridori, diciamo, Coppi, Bartani, veramente siete in pochi ad avvenire così tanto in carriera e gare poi tutte importanti. Sì, in tante gare ci sono quelle importanti e quelle meno importanti, però a certe volte è più difficile vincere una piccola gara che una grande perché dipende poi dagli avversari, dalle situazioni che si presentano durante la gara. Ogni gara ha la sua storia, è chiaro che è molto più importante vincere il Mondiale che il circuito con la gara di Larciano o il Gran Premio di Camaiore, per dire che ho vinto il Giro del Piemonte o il Giro del Veneto. Però ai nostri tempi queste gare erano molto sentite, non so, anche il campionato nazionale dove si vinceva la maglia tricolore era una gara che era sentita e contava anche perché uno che vinceva la maglia tricolore era considerato ai tempi. Adesso non mi pare che conti molto, però sono cambiati i tempi. Sì, molti corridori magari non partecipano perché hanno altri programmi e dando meno importanza a queste gare. Qual è la gara che ti ha dato veramente la soddisfazione più grande nella tua carriera? È difficile fare la differenza. Quella che ho inseguito di più e che quando l'ho vinto è chiaramente stata anche una liberazione, è stato il Giro d'Italia perché ho fatto tre volte al secondo e poi finalmente nell'84 sono riuscito a vincerlo. Però anche il record dell'ora è una gara che ha avuto una grande importanza perché se si considera che l'abbiamo fatto d'inverno che per tre mesi non si è fatto altro che parlare di questo record bene o male. Siamo andati avanti da fine stagione, fine Lombardia, fino alla fine di gennaio a parlare solo del record, degli allenamenti, della bici, di tutte le cose. Riuscire poi a fare il risultato è stata certamente una cosa che ha lasciato il segno. Francesco, la tua carriera è stata splendida, adesso poi vediamo anche quello che hai realizzato con i vini, quindi un'altra vittoria perché realizzare dei vini pregiati penso che è un orgoglio, è un prestigio. Beh, è chiaro che questa attività è cominciata veramente da quando ho smesso di correre perché proprio questo posto qui, il Maso, l'ho acquistato l'anno, nell'88 quando ho già smesso in sostanza di correre e abbiamo cominciato subito a trasformare i vigneti, fare la cantina che non c'era, la cantina nuova e adesso stiamo cercando di puntare sempre più sulla qualità dei prodotti. La tradizione Moser continua, Francesco. Adesso sono arrivati i figli e i nipoti e vanno forte. Speriamo che riescano a continuare la tradizione perché ormai è dal 51 quando sono nato io praticamente che in casa Moser si corre da sempre perché Aldo ha cominciato nel 51, proprio il mese di giugno credo quando sono nato io e adesso siamo nel 2012, sono passati più di 60 anni e ci sono Moreno che è il figlio di Diego, Ignazio che è mio figlio che si stanno facendo le ossa, insomma Moreno direi che è partito la grande con i professionisti, con i direttanti, lo sapevamo che era forte però tante volte il passaggio può essere qualche sorpresa. Mi pare che abbia già capito come si corre perché ha già fatto dei ben risultati anche se ha corso poco, fino adesso andrà a fare i Paesi Baschi in questi giorni, vedremo. E poi le classiche anche farà la Freccia Vallona e la Liegi Baston Liegi. In questo ciclismo di questi anni come lo vedi i campioni, i corridori, come li vedi? Il cambiamento? Certamente è cambiato rispetto ai nostri tempi perché noi si correva, non tutto il calendario perché era grande, anche allora il calendario, però oggi i corridori programmano queste attività poi se consideri le squadre, le grandi squadre, hanno 25-28 corridori tante volte i corridori non corrono neanche perché non c'è anche il posto per correre invece noi avevamo squadra 12, 13, 14 corridori massimo e si doveva sempre correre perché uno o due erano ammalati o indisposti o caduti e gli altri dovevano tutti correre e bisognava guadagnarsene. E i giovani che passano adesso qual è il consiglio che dà Moser? Non è facile dare consigli, il consiglio è che se uno decide di correre in bici per quei 10 anni che fa il corridore deve farlo al 100%, non si possono servire più di un padrone insomma il ciclismo è un padrone esigente. Noi ti ringraziamo Francesco, poi ci vedremo al Giro d'Italia e intanto grazie per l'intervista. E allora adesso brindiamo con lo sfumato del Reco, ecco qua. Salute, allora brindiamo alle classiche che ormai domenica c'è la grande Giro delle Fiandre poi la Rubè e credo che saremo tutti a guardare quello che succede. Speriamo che in questa stagione riesca un italiano a vincere una di queste classiche. Anche perché ha tre anni che non vincono. Anche perché ha tre anni che non riescono a salire sul gradino più alto. Comunque sono momenti, è una ruota che gira dopo la carriera. Grazie Francesco. Salute. Andiamo dal grande Moser. Checo, grazie di essere qua. Ci sei sempre quando si parla di beneficenza anche tu, sei un trentino doc. che a me fa piacere vederti, mi fa veramente molto emozionare. Siamo qua vicini, c'è l'occasione, si cerca di esserci naturalmente. Io il bondone lo vedo quando mi alzo, quando vado a letto. Quando te sei in delle vigne e te vado sul bondone. Un'ora fa ero nelle vigne e guardavo, dico me la farà sta gara col tuo sole laggiù. Si moriva dal caldo, è qua un po' più fresco, ma comunque vedo che l'arrivo c'è e tanto il risultato non conta molto. Non conta perché è il cuore. Possiamo andare anche piano. Ma tu puoi andare anche piano, anche in retromarcia se vuoi. Grazie a tutti. Sono campioni sicuramente di sportività e con un cuore immenso sono qui per un'azione benefica a favore dell'atmo. Quindi noi il minimo che possiamo fare è augurare a tutti loro di tornare il prossimo anno con lo stemino. Torniamo alla premiazione. Dodi è un po' emozionata giustamente, donna ancora di più. Il premio va a Daniela Merighetti, quest'anno lo ricordiamo. Vincitrice nella discesa libera in Coppa del Mondo a Tortina Vantezzo. Grande impresa dopo aver superato sicuramente qualche momento di difficoltà. Grande ville, l'atleta dell'anno, uscire col cuore. Vincitrice nella discesa libera in Coppa del Mondo. Anche su HTV8 13esimo test, frequenza 12149.